Zup sull'amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo con la Zodiac Challenge Eccoci qua ragazzi, è notte fonda, io mi sono un attimo ripresa dallo shock di Yasmin incinta E visto che però almeno ci ho portato 170.000 simoleon, ho deciso di farli comprare una casa nuova Anche perché stanno per avere dei gemelli, quindi la casa deve necessariamente allargarsi per ospitare tutti quanti Questa è la casa, non l'ho fatta io, è di Evelyn, molto brava Evelyn Io l'ho semplicemente riarredata in alcune parti, la cucina e il salotto, rimasta pressoché com'era Io ho semplicemente al salotto cambiato i divani ma per il resto Oh buongiorno, lei si è già svegliata con la nausea, voglia di vomitare Molto bene, questo bagno non l'ho rifatto, me lo sono dimenticato, vabbè pazienza, lo lasciamo così, vai a vomitare Povera, non vive molto bene la nostra Yasmin Pulisce per cortesia però, e asciugami qua E poi prepara almeno la colazione Visto che al momento lei chiaramente non lavora Oh eccolo, anche lui si è svegliato, che stai facendo? E questo cos'è? Ah è un soffiatro di bolle tesoro, ma tanto è messo in un punto dove voi non lo userete mai Ah, c'era questa urna nel lotto, ovviamente la cancelliamo Io vorrei anche adottare, però vedete che qui c'è tutto l'occorrente, anche un micetto E magari anche un cagnolino, mi piacerebbe Vediamo chi c'è Che carina Gracie, ha un colore bellissimo No, voglio Gracie Già lo so Oh che carino, fai presentazione amichevole Ma che carina, ma è un colore adorabile No vabbè lo voglio, cioè adottala subito Adotta Lui comunque, ah ma è cresciuto tra i gatti quindi Gli piacciono gli animali Mc Lane Nome Gracie Altrimenti Cinnamon Come on Zoe Angel Coco Coco, Coco mi piace, Coco Mc Lane Oh guardatelo, quanto è felice di aver adottato il micetto Dai Zacca, almeno il micetto Ecco, poi tesoro, fate la skin care one time treatment Ma non agli occhi, cioè c'hai, vabbè, se l'ha fatto il contorno occhi Grazie caro Eh, possiamo terminare la visita Puoi cavarmi sto coso di qui Vai qui, ce la facciamo Termina la visita Ok, sta già andando via, perfetto E già che ci siamo Io vorrei adottare anche un cane Quindi Chiamiamo di nuovo il servizio per un cane Stavolta vediamo chi c'è Che carino Però Yorkshire no, non mi fa impazzire Voglio un cane grande Ma sì, perché no Però vorrei vedere No, perché se ne vedo più di uno li prendo tutti Quindi no, uno solo Ok, tu hai preparato la colazione? Sì, benissimo Mangia tesoro Anzi, chiama a tavola Lei non la vedo molto contenta della cosa No, aspetta tu a mangiare Perché dobbiamo adottare anche lui Presentazione amichevole, adotta Dai, andiamo e diamogli un'occhiata anche a lui Guardatelo Oh, è un po' aggressivo il piccolo Però ti perdoniamo con questo musetto Sì, lo vogliamo adottare Che esci McLean Felix, no? Jax Jax mi piace Eccola qua anche il cagnolotto Molto bene Dopo ci occupiamo dei cani Intanto vai a mangiare anche tu Perché hai fame Mangia con lei Magari Secondo me però in questo momento Lei non era molto felice della cosa Quindi facciamo che vabbè Disputa di politica Tra virgolette In realtà stanno disputando Perché lui ha preso un cane o un gatto E lei non era proprio convinta Ha detto Ma sono impegnativi Sono incinta Io non ci credo Quale anche l'ormone sballate ragazzi Quindi figuriamoci Volevo un animale Da tanto tempo Per quale ragione Non posso adottare E insomma E via Quindi stanno discutendo Tra loro le cose Ragazzi non vanno In maniera ediliaca Perché alla fine Insomma Diciamo la verità Zack non avrebbe mai Cominciato una relazione Con lei Seria Quanto meno Se non fosse stato Perché è rimasta incinta Non ci avrebbe mai Convissuto Altrimenti Ah bene Torto da ambo le parti Il retro gusto cattivo Perché Perché è scadente Fa schifo Bene Quindi guarda tesoro Se ripulisci tutto Poi io lei Oggi immagino Che debba andare A fare la visita ginecologica Se siamo entrati Nel secondo Trimestre Esatto Visita ginecologica Ovviamente ci andiamo Con Zachary Vabbè lei aveva fretta Ragazzi si è avviata Dai corri anche tu Andate a fare L'ecografia Anche se sappiamo Già che sono gemelli Ed eccola qui L'ecografia Gemelli Un maschio E una femmina Già lo sapevamo Noi però Allora io metterei L'ecografia Qua La devo sistemare Perché al momento Nome Gemelli Perché al momento Non so ancora Come li chiamerò Ragazzi Ok Sistemata Lei come sta Beh tutto sommato Sta bene C'è da farli conoscere I genitori Ragazzi Se si Scaccia Di ora Mi dispiace Dai no Non voglio Che lo scacci Allora Lei non si occuperà Di lui Quindi vieni qui Riempi e Chiama Coco E poi vieni qui A chiamare Anche Jax Tu potresti farmi Tesoro La lavatrice Fruga nelle tasche Fai il boccato Aggiungi la lavatrice Hai bisogno di farti una doccia Quindi guarda Non affarti Anzi Non affartela di qua Tanto Va bene Lo stesso Fai una doccia Reflessiva Ah Devo rimetterti Per lo yoga Già Potrebbe venire A eseguire Una sessione di yoga Potenziamento cerebrale Così magari dopo Non giochiamo neanche a scacchi Perché non l'ho comprato Oh Gesù Qui abbiamo già preparato La stanza Per i due piccoli Che devono arrivare Giustamente Ok dai Basta Fai queste altre cose Leggi ste necrologi Ma guardate La cont Cioè No Era inquietante È inquietante Ma È contenta Di leggere Le persone morte Io non ho parole Vabbè Tu Pensa a stare in equilibrio Vai Zach Non preoccuparti Noi raggiungeremo Il livello 10 Di Della Della carriera politica Dobbiamo fare il roduno No L'avevamo fatto Però magari Lui potrebbe anche farlo Ma no stasera Perché vorrei che Lui invitasse i genitori Vai in bagno Un attimo Tesoro Adesso Ok E veniamo giù I cagnolini Stanno bene Vieni qua Carezza lui Un attimo Questo te lo prendi te Quando hai fatto Vai a mangiare qualcosa Visto che hai fame Prendete uno dei dolcetti Va bene Poi magari tesoro Il fruga nelle tasche E portamelo nella cesta Dopodiché io vorrei fargli fare a lui Delle ricerche genitoriali Perché vuole prepararsi Lui ci tiene Viene a sederti qua E mi vieni qua E vai su internet Fai una ricerca Sui metodi genitoriali Poi sempre su internet Explori i forum dei genitori Perché lui vuole Assolutamente informarsi Per lui è importante Essere un buon padre Perché Comunque Anche se non si rende ancora Perfettamente conto Ci tiene Ecco All'educazione Del suo futuro figlio E soprattutto Non si sente pronto Perché è piccolo È molto triste Perché ha letto Sarò un genitori pessimo Mio figlio mi odierà Notizie interessanti Ok Ha scoperto il sesso È felice Ha fame Fai un po' la troll Il primo bacio Dai ricordi Ah sta pensando A quando l'ha baciata Le canto turbinoso Le voci parlano Nella lingua dell'amore Ok Anche lui Notizie interessanti Bene Beh in realtà Gli devo far conoscere Insomma Nostra moglie Però io volevo fare Un evento con cena Infatti Guarda Fai una cosa Abiti Cambia abito Vestiti in maniera Più decente Mettiti così Dai Perfetto E facciamo un evento Lui però Secondo me Adesso che la vedrà triste Spegni le auricolari Spegni La vede triste Lui Ripensava anche Al primo bacio Quindi magari Viene qua Amichevole E cerca di Terrarlo un po' Su di morale Abbraccialo affettosamente Chiedi di sentire il neonato Lui Lui Comunque Ma le vuole bene Nel senso La conosce da qualche mese È la madre Comunque di suo figlio Che sia Volente o nolente È la madre di suo figlio Oh che momento Aspettate Lo voglio vedere Il tuo piccolino Shelley Chiedi la data di nascita prevista Dai Diventa tenerci Che l'abbiamo rallegrata Vabbè a questo punto Allora Facciamo un Basio Dai Baciala Tu bacia La nostra Yasmin Che Non si rincorrerà Un attimo Non sarà più convinta Ad essere un pessimo genitore Spero che Le rassicurazioni di Zack Siano reali E lei Alla fine Secondo me Si addolcisce Anche un po' E considererà Finalmente Questi Poveri Cuccioli Amichevole Dai un gran dolcetto Fai una ramanzina Sugli abbai Però Perché questo ci sta Eh si Quindi fai una ramanzina Poi E lui inizierà Intanto apparecchia la tavola Con coperto No Da festa Dai grigio E preparerà la cena A parte Lui non è molto bravo In cucina Lei come è messa Lui è due Lei ha due Quindi ok Raga Mi dispiace Per i miei Per i suoi genitori Non avranno Una grande cena Devo dir la verità Potresti fare Una torta Invernale No Perché siamo Un'estate Da cosa di pesce Mi sembra una tristezza Però non è che Abbiamo un Granché Maiale Agrodolce Ci proviamo Dai Formato famiglia Siamo solo In quattro Quindi va bene Apparecchiato Lei potrebbe venire A preparare Una brocca Di Succo di mela Frizzante E per l'occasione Stasera Comunque si vestirà Un pochino Più elegante Perché comunque Deve conoscere I suoceri Insomma È un attimo Una cosa Importante Quindi Vieni qua Tra l'altro Datti una sistemata Ok Basta parlare con lui Perché inizia Deve essere tardi I genitori di Zack Stanno per arrivare No Aveva fatto una festa Un costume Salim Cavolo Ormai abbiamo fatto Questa cosa Per la cena Vediamo lui Come se la cava Ai fornelli Ok La festa Con cena Lei sta preparando Ah Lui si è già Si è vestito Quindi anche lei Tecnicamente Si dovrebbe vestire In automatico Lasciala andare Non prenderti il tè Lasciala lì No Stai buona Vai Brava Vestiti Date una sistemata Questo la mettiamo Com'è Scatente Proviamo a rifarlo Ok ragazzi Ci siamo Sta per conoscere La suocera Salve È un piacere Conoscerla Ho conosciuta Ringraziala Per la presenza Egegarda Grazie per essere venuta Condividiamo La grande notizia Mio marito Arriverà a momenti Si scusa Ma è stato impegnato Alla stazione di polizia Perché si ancora Lui non è in pensione Quindi lavora Tu come te la cavi Ecco che spadella Questo coso Fa schifo Quindi vieni qua Ripulisci Per favore Oh Questo sembra Fatto meglio Vorrei capire Dov'è suo padre Io in tutto Oh Eccolo È arrivato Quindi presentati Anche con lui Anche tu però No Ma aspetta un attimo Signore Aspetta Mannaggia Guarda te Vabbè guarda Viene a chiamare A tavola Prima che Qui abbiano tutti Fretta Ok Allora Siamo tutti A sedere Quindi fa una presentazione Amichevole Con lui Tu potresti Parlare Con i tuoi Ringraziala Per la presenza Tuo padre pure E con papà Poi Parliamo un attimo Di politica Anche con la mamma Ma io devo far sempre La stessa Destra o sinistra Posso fare un po' E un po' Perché Io non vorrei Vorrei essere Politicamente corretta E farle In tanti Ciao Condividi anche La grande notizia Ok Allora Ringrazio per la presenza Di nuovo Chiedi del cibo Chiedi se gli è piaciuto Anche tu chiedi A tuo padre Va Poi Possiamo Ispirare La causa La madre La guarda In maniera Insistente Però Vero ragazzi Ringraziato Per la presenza Lui Non sa usare Il bacchetto Fantastico Chiedi della carriera E ragazzi In questo momento Le cose cominciano E Chieli sta chiedendo Come sta andando Tu continua a parlare Con tuo padre Però secondo me Lei a un certo punto Verrà fuori Il discorso Che non ha intenzione Di riprendere a lavorare E secondo me Sono un po' Cioè No Orla contro No Ci si volevo Non insulta Insinno la mamma Si o l'ama Cioè Secondo me Lei non va d'accordo Con Elizabeth Perché Elizabeth Secondo me Le ha detto Le ha fatto notare Che ha ragione Suo figlio Dovrebbe lavorare E il suo figlio Al momento Cerca di starne fuori Dalla cosa Fa una conversazione Profonda Con lui E fa una conversazione Profonda Anche con tua madre Anzi adolala Così almeno Samente ha il carisma Spettegola Con lui E ragazzi Dalla fine Va a finire male Risputeranno Della carriera Si Li vedo Le vedo in Contrasto Io suocera E nuora Tra virgolette Perché non sono sposati In realtà Cioè Davvero Sei così Credi davvero Che Sia giusto Che io debba Riprendere a lavorare In fondo Il compito Di tuo figlio Mantenere la famiglia E qui iniziano a litigare Ragazzi Si Lei E' arrabbiata Bene Direi che non sta andando bene In questo senso La scena Lui Sta assistendo In tutto ciò Dove Si è qui Sta lavando i piatti Se no me Cercherà di intervenire E L'abbraccerà un attimo Perché Ora Lui e il padre Se no me Si stanno Cercando di capire Come muoversi Per chiudere Questa lite Lei Si è arrabbiata A questo punto Quindi Secondo me Lei Adesso No aspetta Prima di tutto ciò Lui Ci litiga di nuovo Perché non può vedere Orla contro Dice Come osi parlare così a mia madre A mia madre Vabbè Cerca di calmarla Perché comunque Fa male al bambino Lui pensa a questo Lui secondo me Si vorrebbe scusare con sua madre Non posso scusare Non si può scusare Quindi farà una conversazione profonda con lei Mentre la nostra Mentre la nostra Yasmin Viene qui in bagno Hai ancora la nausea Non può vedere per nessuno Sensazione di tristezza Ce l'ha ancora Tazza di bontà Si tesoro Va in bagno Basta parlare Va in bagno Lei è arrabbiata Quindi Se ne andrà in bagno Ti laverà i denti E ragazzi Le verrà A piangere a fiumi E poi dormirà Lui Resta qui per ora Con i genitori Quindi Tanto ormai A questo punto I genitori Se ne stanno andando Diamo le chiave La residenza anche a lui Oddio piccolino Chiedi di andare a fare Sui bisogni Assolutamente Ok ragazzi Potete andare Quindi facciamo Sciogliere il gruppo Salutiamoli Amichevole Cioè arrivederci Mango pro cavolo Ah mi sa che se ne stanno già andando Grazie per essere venuti Ok vieni qui E visto che è stato bravo Lo viene a lodare Lo accarezzi Bravo cucciolo Bravo Hai fatto i bisognini fuori Guarda E asciuga qua Sennò chi la sente Yasmin Che sta dormendo Ha già le luci automatiche Magari mettiamole Amore Ma guardatelo Che batuffolo di bellezza Che è questo cagnolino Comunque ragazzi Io credo che per oggi La puntata Si possa anche interrompere Ne sono successe di cose Direi Voi che dite Quindi io spero che l'episodio Vi sia piaciuto Se è così Vi invito a lasciarmi un like E un commento Se vi fa piacere Vi invito anche a iscrivervi al canale Nel caso non l'abbiate ancora fatto E noi ci vediamo La prossima volta Con un nuovo episodio Della Zodiac Challenge Sof Sol Ciao